Sì, è vero, prendere quattro punti è un avversario così forte per noi è motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio. Partire l'andata sicuramente fu una partita molto importante da parte nostra, forse Pescara era un momento non estremamente favorevole, cosa che invece lo era oggi perché veniva da un momento importante, buona condizione, buon gioco, tanta qualità e perciò per noi oggi si prospettava una partita molto complicata. Lo è stato in alcuni momenti, in altri la mia squadra secondo me ha contenuto bene ed ha ridotto un po' la forza dell'avversario ed ha avuto anche la capacità di creare problemi a Pescara perché inizio positivo, poi c'è stata la fase centrale del primo tempo dove effettivamente Pescara ha preso un po' il sopravvento e il finale del primo tempo la squadra è uscita fuori quindi è stato questo un po' il momento importante perché poi la nostra squadra giovane quando viene in questi campi così da un punto di vista ambientale soffri un po' questo aspetto e allora magari a volte un episodio può rifarti entrare immediatamente in partita. Nel secondo tempo secondo me la partita era in estremo equilibrio direi, Pescara non stava facendo più quello che faceva al primo tempo è chiaro che il gol può nascere sempre in qualsiasi momento e lì ancora è venuta fuori la reazione della squadra perché ha avuto occasioni, perché comunque ha regito bene, perché ci ha provato e ha trovato un pari direi assolutamente meritato meritato per la condotta della gara e per il valore dell'avversario, per il momento anche nostro perché venivamo da un momento non favorevole quindi veramente tanti complimenti a ragazzi perché questo è un punto importantissimo della partita di oggi ma direi anche per il nostro campionato perché insomma siamo nel momento decisivo. Nel secondo tempo non so se siete d'accordo, insomma siete stati bravi perché siete riusciti dopo il gol del Vantaggio del Pescara a limitare i biancazzurri che non sono riusciti a costruire occasioni da rete nel contempo voi avete attaccato pur non creando tantissimo ma al ventottesimo c'era stato poi il miracolo di Avogucci sul tiro di Regoli insomma rispetto al primo tempo siete riusciti a chiudere bene che nel primo tempo avevate rischiato Sì infatti quando ti giochi in queste squadre che poi hanno tanta qualità in fase offensiva soprattutto sugli esterni giocatori molto rapidi in ripartenze è capitato tante volte in questo campionato che se te vai in svantaggio contro queste squadre poi rischi di compromettere la partita in poco tempo quindi è capitato tante volte ed è un aspetto dove tutte le volte poniamo tanta attenzione e anche oggi poteva verificarsi questa situazione qui invece la squadra in quel frangente è rimasta unita non si è disunita perché è importante rimanere dentro la partita è fondamentale per non compromettere definitivamente ed è chiaro che poi dopo nel finale avremmo dovuto provare qualcosa di più è chiaro qualche rischio poteva anche venire fuori nel finale quello ci stava però è vero questa considerazione è giusta perché poi praticamente non si è concesso niente all'avversario considerando le qualità offensive di cui ha disposizione Pescara è una situazione che ci poteva stare evidentemente i ragazzi sono stati bravi a contenere bene a rimanere lucidi nella partita e a creare come ha detto lei anche delle situazioni di pericolo arrivando poi a Gode Pari Fino a ieri eravamo preoccupati della salvezza che è quello che conta a noi ora oggi siamo vicini ai playoff è quest'altalena che a volte è preoccupante per noi perché questo sale e scendi di risultati, di obiettivi è sempre molto pericoloso per noi Sarebbe bello però noi ora in questo momento abbiamo la testa ad altre cose se poi dopo dovesse venire fuori un discorso del genere verremo volentieri a disputarci un'altra partita perché qui sicuramente per i nostri ragazzi giovani è sempre un palcoscenio molto bello Sì è quello dei ragazzi dicono c'è stato un fallo di mano clamoroso però io devo dire la verità dalla panchina però li ho visti tutti molto di là del fallo di mano sicuramente la situazione è stata abbastanza clamorosa cioè importante voglio dire ecco se poi sì ora se c'è stato un fallo di mano io da molto lontano non saprei dirlo ecco però e poi sono situazioni che Sì è quello del primo tempo dice? Sì ripeto l'approccio è stato molto positivo Poteva aiutare direi di sì direi di sì però insomma siamo molto contenti di questo punto